Cari amici, volevo informarvi che venerdì 10 nel pomeriggio avremo un open day molto importante e interessa a tutti quanti coloro che praticamente si vogliono avvicinare per la prima volta e anche approfondire le conoscenze delle discipline analogiche nel campo della comunicazione e nel campo dell'ipanosi dinamica. Faccio una breve precisazione, per noi ipanosi dinamica vuol dire comunicazione intrapsichica con noi stessi, con il nostro profondo del nostro animo e quindi con le nostre emozioni. La comunicazione analogica invece riguarda la comunicazione relazionale, scusate, verso gli altri. Vi do degli assiomi fondamentali in relazione a questi due approcci delle discipline analogiche. La sioma della comunicazione analogica è il seguente, così capirete il senso di ciò che vogliamo trattare. Praticamente nella vita chi chiede è perdente, chi sa ottenere è vincente e quindi noi insegniamo come sapere ottenere. Questo è molto importante perché ci hanno insegnato tutti a chiedere e non a creare le condizioni emotive affinché una nostra comunicazione venga accettata e vissuta intensamente dal nostro interlocutore. Questo vale sia nelle relazioni interpersonali e sia nelle relazioni intrapsichiche con noi stessi. Ecco perché si parla appunto anche dell'ipanosi dinamica. Vedremo delle sperimentazioni sia nel primo e nel secondo settore di applicazione estremamente interessante e vi posso garantire che la nostra vita cambierà da così a così una volta che siamo in grado di conoscere a fondo queste tecniche di comunicazione non verbale. È assolutamente da poter applicare durante un normalissimo dialogo, ecco se non addirittura in una autoipanosi personale tendente a far sì di ottenere del benessere abbattendo ansia, angoscia, paura, panico e altre cose usando sistemi di comunicazione così definiti praticamente olistici. È molto importante che avvenga questo e farò in modo che possiamo avere una serata estremamente interessante. Quindi vi aspetto a tutti venerdì pomeriggio intervenite perché faremo insieme tante esperienze. Vi ringrazio, arrivederci e vi attendo.